Buongiorno dall'artigiano in fiera, direttamente sul palco. I consigli per poter sfruttare al meglio la vostra occasione. Siamo alle soglie del weekend finale, vi state giocando le vostre armi migliori proprio ora? Avete notato a che cosa sono più interessati i vostri clienti? Avete pensato di puntare proprio su questo per attirare i clienti del fine settimana? Vi siete sparati le vostre cartucce online con Twitter, Instagram e altro per attirare i clienti proprio al vostro stand per battere la concorrenza di tutti gli altri padiglioni? Questo è il momento di giocare al meglio, tirare fuori il vostro sorriso più accattivante, fermare la gente nei corridoi e farla entrare al vostro stand, mostrare la qualità di quello che fate e poi cominciare a pensare al futuro. Come dicevamo nei giorni scorsi avete stretto partnership con i vostri vicini, avete catturato gli indirizzi mail dei visitatori per poterli ricontattare, avete pensato a cosa dire dopo che finirà la fiera a questi visitatori per poter ottenere a loro il loro interesse. Provate a puntare adesso anche sul passaparola. Chiedete ai passanti che si fermano da voi e che sono interessati, magari non comprano ma sono interessati, di spendere una buona parola per voi. Dategli dei biglietti da visita da distribuire ad altri. Giocate ad essere coraggiosi. Buona giornata!